Vorrei chiedervi, cosa ne pensate di questo progetto e come hanno reagito gli studenti? Allora, sicuramente è stato preso in maniera molto positiva, i ragazzi sono vogliosi, è un modo per mettere in campo le proprie capacità, le proprie conoscenze, quello che hanno studiato in questi anni. Quindi l'hanno preso molto bene, lavorano tutti insieme e cercano di dare il meglio. Sì, infatti è un'occasione sia per ringraziare per la collaborazione offerta e soprattutto perché è un'occasione di crescita per i ragazzi in quanto mettono in campo le competenze che acquisiscono durante gli anni. Infatti grazie agli organizzatori, ma grazie anche a voi perché, devo dire, delle volte superate anche le nostre aspettative, quindi vi ringraziamo. Grazie mille.